C'è una consolazione umana, una consolazione terrena, una consolazione diabolica che noi possiamo cercare nelle cose di questo mondo. Eva porge ad Adamo il frutto, il frutto che dovevo consolarlo, ma quel frutto intossicò Adamo. Anche noi siamo chiamati a consolarci e a dare consolazione. Non facciamo come Eva che porge ad Adamo una consolazione terrena, diabolica, umana. Non è questa la consolazione di cui noi parliamo, ma la nostra consolazione è una consolazione divina. C'è un altro albero, l'albero della vita, da cui pendo un frutto. I nostri padri non lo mangiarono. E quando tentarono di mangiarlo, due cherubini con le spade suguainate impedirono l'accesso alla porta del paradiso. Adamo e Eva, avendo fatta esperienza della tribolazione e della sofferenza, tentarono di valcare le soglie del paradiso per andare a cercare il frutto della vita. Ma trovarono i cherubini con le spade suguainate, impedirono l'accesso. E ritornarono meste, restarono in questa terra che produceva tribola e spine. La sofferenza, la tribolazione, accompagna così il cammino dell'uomo. Però il buon Dio, perché un Dio buono, il Dio di ogni consolazione, promette, promette ai progenitori che un giorno avrebbero avuto colui che li avrebbe salvati il Redentura, promisso il frutto dell'albero della vita. E quell'albero della vita fu piantato sulla terra, fu sepolto nella terra. E un giorno, dopo, millenni e millenni di incubazione, questo albero nacque. Era il germoglio della radice di essa. Spuntò quest'albero. Gli angeli del cielo alibirono, alibirono i serafini, i cherubini, le potestà, le dominazioni. Videro sulla terra l'albero della vita. L'albero nuovo, tutto diverso dagli altri alberi, diverso dagli alberi della terra, diverso dagli altri uomini, gli alberi che camminano sulla terra. Nessuno di questi alberi che camminano sulla terra, nessun albero della foresta umana, assomigliava a quest'albero. Era diverso, diverso, diverso. E gli angeli vedevano e cresceva quest'albero. E da quest'albero un giorno venne il frutto della vita. colui che nascerà da te sarà il santo, il figlio di Dio. Prendi con te Maria, tua sposa, avvicinati a quest'albero, ma il frutto che nascerà sarà il salvatore del mondo e egli salvarà il mondo dal suo peccato. E quest'albero ha prodotto il frutto, il dolce frutto che mangia di questo frutto, vivrà in eterno. Questo è l'albero della consolazione che Dio dà all'uomo. E qui incomincia il nostro insegnamento. Quello che ho detto è una premessa. L'umanità è in cammino. Il popolo eletto che rappresenta tutta l'umanità è in cammino nel deserto. Siamo al capitolo 15 dell'Esodo. Il popolo arriva a Mara. Era arrivato al deserto di Sur. C'era tanta sete. per tre giorni vagano nel deserto in cerca di acqua. Finalmente trovano l'acqua. Ma l'acqua è amara. Non si può bere. Sono ammalati. Gli israeliti portano le malattie dell'Egitto. Tutti sono ammalati. Camminando nel deserto. Hanno portato le malattie dell'Egitto. Il popolo si lamenta. E' nella tribolazione, nella sofferenza, nella malattia. Nell'acqua è imbevibile. Il condottiere Mosè in cui è Cristo Gesù che guida il popolo verso la salvezza grida a Dio suo padre Padre, le acque sono amare e Dio dice prendi il legno quel legno mettole nell'acqua e l'acqua diventerà dolce, potabile non solo ma chi berrà di quest'acqua risenerà da tutte le malattie perché io sono il Signore che ti guarisco e Mosè prende il legno e lo butta nell'acqua nell'acqua di Mara e l'acqua diventa dolce potabile non solo ma chi beveva di quell'acqua guariva da tutte le malattie contratti in Egitto dissetava e guariva Mara è la condizione dell'uomo nel deserto di Sur è la condizione nostra umana nel deserto di Sur noi vagliamo per tre giorni nel deserto e non troviamo acqua e se acqua troviamo questa è amara ma con legno con legno indicato da Dio che è il legno del paradiso terrestre in figura viene risanata l'acqua di Mara e vengono distrutte tutte le malattie quel legno è il legno della croce questo legno da cui pende il frutto benedetto di quell'albere meraviglioso diversa degli altri alberi della foresta maturato in quell'albero bello che fa meraviglia agli angeli quest'albero che è Maria produce questo frutto chi mangia del frutto appeso all'albero della croce egli berrà le acque di Mara le sofferenze della vita diventate dolce e guarirà da tutte le malattie questo è il mistero di Mara poi vedremo il mistero di Elim di cui già avete cominciato a fare esperienza nei simposi questa mattina e continuerete così a sondare a scavare perché il mistero di Elim è un altro mistero connesso con Mara è la croce che rende potabili le acque amare della vita le sofferenze di tribolazione che si conigano come abbiamo visto nel testo introduttivo con paracrisis con la consolazione la croce prima di parlare della croce avremmo dovuto parlare come abbiamo fatto altrove delle tre consolazioni ma non abbiamo avuto tempo è sufficiente averne parlato noi non possiamo addorcire l'amarezza della vita e le tribolazioni con la consolazione umana né con quella terrena tantomeno con quella diabolica le scritture parlano chiaramente una consolazione umana lasciamo stare le altre consolazioni terrene diaboliche ci dilungheremmo o ricchi voi avete la vostra consolazione dice Dio Gesù in Luca guai a voi ricchi perché avete già la vostra consolazione ma la ricchezza non consola e neanche il piacere consola è tossico non è fatta esperienza ma neanche la consolazione umana consola né la scienza né l'amore due tipici esempi la scienza Giobbe è malato i tre amici con la loro sapienza non arrivano a consolare Giobbe ma Giobbe dice le vostre consolazioni mi sono di peso non le sopporto non datevi parole consolatorie andatevene via io resto nella mia sofferenza nella mia tribolazione gli spiegano il mistero della sua sofferenza ma Giobbe non è convinto perché tutte le spiegazioni non possono togliere perché tutte le spiegazioni possono si illuminare ma non possono dare soltanto Dio può dare spiegare e dare neanche l'amore l'amore umano può togliere dalla tribolazione non fu consolato David da Bezzabea e dei propri ministri quando il figlio del peccato nacque ed egli lo vide morire e gli giaceva per terra tutti si radunarono attorno a lui Bezzabea e gli altri ministri gli altri figli ma lui non poteva consolarsi l'amore tenero di Bezzabea l'amore sincero dei figli non arrivò a consolare David e neanche Giacobbe restò consolato quando dopo la morte di Giuseppe i figli e le figlie vennero a consolare il padre voi non potete consolare mi diceva Giacobbe io non vedo l'ora di scendere nello scioglio per vedere il mio figlio Giuseppe ecco la mia calizia è sulla mia testa ormai sono vecchio ormai la mia vita è finita io non vedo l'ora di congiungermi e di rivedere nelle scioglie mio figlio che hanno ucciso e dice la scrittura non vuole essere consolato non poter essere consolato ecco l'uomo con tutta la scienza tutta la saggezza con tutta l'amore del suo cuore non arriva a consolare l'uomo può offrirgli qualche cosa ma la consolazione che l'uomo attende supera il potere consolatorio di tutte le creature umane perché la sua sofferenza è la sofferenza di un cuore che tende all'infinito il suo voto è infinito non il denaro non il sesso non il successo non la scienza non l'amore arrivano a colmare il cuore dell'uomo soltanto Dio può colmare il cuore dell'uomo e Dio scende nel cuore dell'uomo con legna dalla croce il cuore dell'uomo mara dove c'è la sofferenza la tribolazione la malattia soltanto guarisce soltanto rivede la luce quando il legno della croce addolcisce e cambia le acque amare indolci le acque impotabili in acque potabili e allora ecco entriamo nel mistero della croce che è l'unica consolazione data all'uomo e qui vorrei ribadire questo concetto la consolazione di cui noi parliamo non è un antidoto alla sofferenza alla tribolazione cosicché noi dando alla nostra consolazione anche quella divina noi compensiamo o annulliamo la tribolazione compensiamo o annulliamo la sofferenza come l'amaro quando si ci mette lo zucchero non è più amaro diventa dolce non è un correttivo la consolazione di cui noi parliamo ma è al contrario cioè quella sofferenza diventa bella dolce quella tribolazione diventa potabile bella dolce bella vedersi dolce gustarsi quella tribolazione dalla vita perché quella tribolazione quella sofferenza ha tre grandi valori porta il frutto porta il frutto il frutto della vita Cristo Gesù e allora in che cosa consiste questo valore della croce vedremo non vado per secondo lo schema ma vediamo di schematizzare ma lo anticipo cioè la croce di Cristo viene piantata dentro di noi e produce tre dimensioni in noi secondo tre leggi la legge della conformità la legge dell'associazione la legge della redenzione vedremo per il momento abbiate in mente queste tre leggi ma andiamo per ordine la croce guardando lo schema che ho preparato trovo e cosa voglio dire così avete mentalmente uno schema le tre leggi un altro schema la croce fabbricata da noi la croce è fabbricata dagli altri la croce è fabbricata da Dio la croce del proprio peccato la croce della propria eredità la croce della famiglia la croce dell'ambiente la croce delle persecuzioni la croce delle malattie vedremo queste croci ma prima di entrare nella croce umana andiamo alla croce di Gesù verso metà della sua vita Gesù incominciò a parlare della croce però Gesù incominciò a soffrire e a portare la croce fin da un grebo di sua madre e associò alla croce al mistero della croce tutti quelli che entrarono in contatto con lui prima sua madre poi San Giuseppe poi gli apostoli tutti quelli che entravano in contatto con lui incominciarono ad entrare nel mistero della sua croce ecco il mistero Gesù nasce con la croce fin dal momento in cui è nel grebo di Maria e associa Maria al mistero della croce perché tutti quelli che vengono in contatto con Gesù per la legge della somiglianza della conformità subito sono crocifisse cioè sono crociati portano il segno della croce Maria riceve l'annuncio dell'angelo dice sì quel sì già è una croce per Maria essa si abbandona al piano di Dio comprende tutto e incomincia a soffrire la gravidanza di Maria coincide con la croce di Maria pensate quella ragazza a 15 anni si trovicita sua madre Anna è a croce il dolore di Anna il dolore di Gioacchino una ragazza madre sanno che è Maria ma come possono comprendere il mistero Maria può dire sì è venuto l'angelo mi ha detto questo e questo io ho detto di sì comprendono non comprendono e sono di parenti e debbano dire i parenti e Giuseppe la sua fidanzata bella pura santa ma incinta e i parenti di Giuseppe Maria crede bene sotto l'illuminazione dell'angelo e dello spirito di andare fuori e per tre mesi va fuori tre o quattro mesi per sottrarsi all'ambiente in cui si trova ambiente di sospetto in quel paesino di duecento abitanti questa ragazza incinta nessuno poteva dire male ma cos'era successo la notizia era prima proprio nei primi nei parenti quali ce l'avano questa cosa nuova Maria se ne va da risabetta sta con lei quando ritorna e allora ecco vedono Maria incinta l'angustia di Maria l'angustia dei parenti dalla parte di Maria dalle parti di Giuseppe Maria è silenziosa spiega agli intimi ma come si fa a convincere diranno i suoi nemici i farisei a Gesù noi non siamo nate dalla prostituzione noi siamo figli di Abramo rinfaccia da Gesù questa diceria Gesù soffre porta la croce porta la croce i sentimenti di Maria le paure di Maria l'angustia di Maria si trasmettano a Gesù Gesù soffre in Maria porta la croce la croce di sua madre comincia a soffrire fin dal momento della concezione tutto ciò che succede attorno a Maria Gesù lo sente attraverso sua madre e soffre dall'amarezza di sua madre Maria con Giuseppe vanno a Bethlehem deve nascere là secondo la legge un duro viaggio soffre Maria soffre Giuseppe soffre Cristo Gesù nasce nel silenzio della notte non ci sono angeli sulla grotta i angeli sono nel luogo dei pastori a due chilometri di distanza ma là sulla grotta di Bethlehem silenzio buio così nasce il figlio di Dio e tutta la vita di Gesù è una sofferenza deve scappare un uomo che fugge Maria deve scappare Giuseppe deve scappare l'ombra di Eroda il timore di Maria il timore di Giuseppe si trasmettono Gesù Gesù porta la croce tutte le paure umane Gesù comincia a gustarle là nel tempio c'è Signore illuminata dallo spirito dice questo bambino oh è la mia gioia ormai posso morire ma ma questa bambina vede nel futuro e lo rovina per molti in Israele resurrezione sì per molti ma rovina perché si manifestano i pensieri dei cuori poi guarda Maria e a te a te Maria la spada trafiggerà il cuore e Maria sente i guai di Maria incominciarono con Gesù chi si accosta a Gesù avrà dei guai perché la legge della conformità la legge della somiglianza niente da fare però la legge della somiglianza è legge della gloria conforme a Cristo nella passione conforme a Cristo nella gloria lo dirà subito Pietro nella prima lettera io anziano partecipe della sofferenza di Cristo e della sua gloria ecco nello Spirito Santo Pietro comprende questa partecipazione al Cristo sofferente di Cristo gloria di gloria legge della conformità tutte le lettere paoline sono piene della legge della conformità però non possiamo molto dilungarci e allora Gesù nella sua vita porta la croce fin dall'inizio e Maria la più vicina a Cristo e comincia a soffrire insieme con lui e porta la croce e Giuseppe un poco pure anche lui a 12 anni quel povero padre cerca il figlio Dio l'aveva affidato a lui e lui lo perde che dolore non era un figlio qualunque era il salvatore dell'umanità aveva perduto Dio aveva perduto il salvatore di tutti gli uomini un'enorme responsabilità non mangiare non bevere non dormire no in quei giorni e il figlio bello sereno la che disputa con i dottori e poi si volge con sussiego al papà e alla mamma e non sapevate che dovevano sapere non sapevate che io dovevo trovarmi nelle cose di mio padre qual è questo padre il padre sono io Giuseppe e la madre era allibita non sapevate e ingiottiva ingiottiva Maria e serbava queste cose nel suo cuore diceva bene Maria a Santa Brigida la quale rivolta a Maria diceva beata te o Vergine Maria che hai avuto la gioia di stare per tutta la vita con Gesù tuo figlio ah e diceva Maria a Brigida a Brigida se tu sapesse non è passato un'ora solo dalla mia vita in cui stare vicino a Gesù fosse per me gioia ho patito sempre stando vicino a Gesù questo è perché più si sta vicino a Gesù più si patisce per la legge della conformità e con loro si profila qual è la consolazione nostra la consolazione di essere conformi al capo ma poi vedremo continuiamo nella vita di Gesù Gesù entra nella vita pubblica lascia suo padre e sua madre probabilmente il suo padre muore dopo la morte di Giuseppe Gesù saluta sua madre me ne vado te ne vai me ne vado debba redimere il mondo ti vengo appresso no? tu devi stare a casa al massimo ci saranno altre donne a seguirmi ma tu devi rimanere a casa Maria non è nel seguito femminile di Cristo e Maria patisce sappiamo la vita di Gesù tribolazione guerra con i suoi avversari ci sono oasi di gioia ma ci sono patimenti tutta la vita pubblica di Cristo è una sofferenza una croce e alla fine le cose maturano il frutto comincia a maturare i discepoli comprendono comprendono non comprendono incominciano a non capire più Cristo credevano che Cristo dovesse entrare nel regno e adesso si illudano di diventare i ministri del nuovo regno ecco la madre dei figli di Sebedeo Giacomo e Giovanni si presenta a Gesù Gesù ha sempre rispetto per le donne sapete perché perché era nato da donna l'uomo non c'entrava e allora per gli uomini veleni ne aveva per le donne no per le donne no era nato da donna aveva un senso di rispetto era rispetto per sua madre che lo portava ad avere rispetto per le donne e li vise a suo seguito scandalizzando tutte perché un maestro di Israele un rabbì che avesse a seguito delle donne era una scenità era una cosa inaudita le donne in Israele inquinavano se entrava una donna nella senagoga mentre si leggeva la legge bisognava chiudere il libro perché la presenza di una donna inquinava la lettura della legge la lettura della Bibbia se doveva smettere e Gesù che si portava presso le donne scandalo scandalo quando la Maddalena ha i piedi lui è beato e lei è beata ma lui è beata perché si lasciava lavare i piedi lei è beata perché il sopertà per peccato era perdonato Gesù fu sempre rispettoso dalle donne e adesso lo contraccambiarono con il loro amore una donna sola lo vedremo oggi nel Vangelo una donna sola fa eccezione subirono questo fascino e condivisero le sapene Gesù nella vita pubblica porta la croce sotto la croce trova il discepolo che l'amava trova le piedonne lo avevano consolato lungo il cammino ecco nella via crucis abbiamo una stazione le donne che consolano Gesù e lui parla del legno il legno verde il legno secco lui è il legno verde tutti sono legni secchi l'unico legno verde il legno della vita muore sulla croce ma per ben tre volte egli annuncia ai discepoli che deve morire sulla croce i discepoli non comprendono niente va sul tabor nel cammino verso Gerusalemme e fa parlare Elia e Mosè con lui argomento la croce proprio nella gloria Mosè ed Elia parlano della croce di Gesù e Gesù discendendo e continuando il cammino verso Gerusalemme riprende riprende il discorso sulla croce necessaria che figli del uomo vada a Gerusalemme e lì gli anziani lo prenderanno lo legheranno lo metteranno a morte riuscirai il terzo giorno me lo metteranno a morte ma non capiscono Pietro si mette in sbaglio dove vai? dove ci porti? a Gerusalemme a patire no no quando mai? ecco Pietro a nome di tutti e Gesù continua imperterrito ed entra a Gerusalemme la ripiede di scepole ormai si avvicina il momento che succede? gli apostoli fuggono uno lo tradisce il prediletto Pietro lo vennega sala sulla croce solo quasi rifiutata dalla terra muore consumato vesto tutto è compiuto ecco la croce è piantata nella vita di Cristo me gli dice quando sono innalzato sulla croce attirerò tutti a me e la Chiesa canta ha regnato dal legno Dio Dio regna sul legno è il legno del paradiso terrestre l'albero della vita che è stata trasferita qui sulla terra l'albero di Maria che ha germinato e ha condotto alla croce il suo figlio Gesù adesso l'albero è piantato sulla vetta la radice sua madre e lì la radice di esse ai piedi della croce ma da quella su ramo dalla croce vendi il frutto il frutto della vita Gesù insegna agli uomini insegna la via della croce per cui la croce non è soltanto piantata nella vita di Gesù ma nell'insegnamento di Gesù Gesù dice che bisogna prendere la croce e seguirlo chi vuol venire dietro di me prende la sua croce e mi segua ogni giorno dobbiamo uscire fuori dirà lo scrittore nella lettera agli ebrei fuori gli accampamenti portando anche noi la croce la croce di Cristo e dirà Paolo che bisogna portare la croce lasciamo lasciamo da parte l'insegnamento di Cristo sulla croce perché il tempo corre e andiamo alla croce di Cristo piantata nella nostra vita qui scatta la legge della conformità e dell'associazione dovremo dovremo fare una lunghissima carrellata sui testi scritturistici ma non abbiamo il tempo qui ho raccolto tutti i testi che riguardano la croce sono due pagine fitte ma che poi potremo anche dare ma semplicemente a leggere questi testi consumeremo una mezz'ora e non abbiamo questo tempo comunque l'insegnamento costante di Paolo di Pietro di Giacomo è questo che il cristiano deve essere anche lui il crocifisso scatta la legge della conformità e dell'associazione io compio in me quello che manca la passione di Cristo siamo associati a Cristo per completare con Cristo la redenzione del mondo dunque è un'associazione redentiva la redenzione è operata da Cristo capo ed è operata da Cristo corpo che siamo noi associati al capo per cui scatto la legge che tutti quelli che sono in Cristo Gesù debbono essere crocifissi come lui e portare la croce come lui e morire come lui sulla croce l'uomo vecchio deve morire per nascere l'uomo nuovo questo e noi lo viviamo nel battesimo quando uniti a Cristo nella fede scendiamo dalle acque della sua morte moriamo con lui per risorgere con lui a vita nuova per cui la croce è nella vita del cristiano per queste tre leggi che ci devono fare assomigliare a Cristo perché la legge fondamentale annunciata da Paolo ai Romani 8 è questo conforme se fieri ossia essere conformi a Cristo Gesù come abbiamo portato l'immagine dell'uomo terreno così porteremo l'immagine dell'uomo celeste io sono un solo Cristo Cristo crocifisso tau per il cristiano non esistono tau quelle che noi vendiamo che ci fanno assomigliare ai taoisti dicevo una moglie a suo marito che portava il tau e il marito che sapeva di scienze orientali all'Ibè ah ti sei fatta o taoista che porti il tau aveva confuso tau il tau è comprensibile col crocifisso questo tau che si occupa nel petto di tutti anche dei delinguenti anche dei mascalzoni che entra nelle discoteche e nei luoghi di oscelità perché tutti portano il tau è una profanazione io non posso vedere il tau è un amuleto è diventato un amuleto comprende il crocifisso dove questo è l'uomo crocifisso se l'uomo è crocifisso è il crocifisso e porti il tau ma lui è un crocifisso bene ma se l'uomo non è un crocifisso ma è un covedente quel tau è un amuleto portiamo il crocifisso non i tau comunque la croce si ama ad Emmaus gli uoi discepoli camminano sono mestri e Gesù in veste di viandante è là che cammina credevamo credevamo ma ormai il terzo giorno le nostre speranze sono svanite e il passeggero dice non sapevate che il Cristo doveva scendere alla gloria mediante la sofferenza alla croce e incomincia a parlare di Gesù con la croce e la sofferenza iniziando dalla legge dai salmi dai profeti io avrei voluto assistere all'interpretazione che Gesù faceva della legge dei profeti dei salmi perché nei profeti nei salmi e nella storia del vecchio testamento c'era lui si possiamo un po' pensare a che cosa così allodesse Cristo presentando se stesso nella storia esacra Mosè parlava di Geremia figura di lui parlava di Davide figura di lui parlava del servo di Yahweh ma nei salmi ma che cosa nei salmi e tutti i profeti non sappiamo cosa dicesse Cristo però dice che a cominciare dalla dalla legge fino agli ultimi profeti parlava della necessità che il Cristo passasse attraverso la croce per arrivare alla gloria questo è detto per noi non possiamo arrivare alla gloria se non passiamo come Cristo attraverso tutte le sofferenze che troviamo nella legge nei salmi dei profeti la vita del cristiano deve essere segnata dalla croce altrimenti non è vita cristiana quelli che piamente vogliono vivere in Cristo Gesù hanno crocevissa la propria carne con i vizi e le passioni quelli che sono di Cristo Gesù subiranno persecuzioni e tribolazioni e anche quando Cristo promette agli apostoli ogni ben di Dio perché hanno rinunciato alle cose terreni hanno il centro in case in fratelli in sorelle in madre in tutto ma non senza tribolazione e poi la vita eterna per cui quando Cristo promette ogni ben di Dio in questo mondo ogni abbondanza però non senza persecuzione vuol dire che la persecuzione deve accompagnare il cristiano e allora vediamo un poco le forme di croce che noi abbiamo andiamo al pratico abbiamo visto la legge della conformità della somiglianza la legge dell'associazione la legge della trasformazione in Cristo glorioso vediamo adesso le croci la croce che tante volte noi ci fabbriamo è la cosiddetta croce nera la croce fabbricata da noi col permesso di Dio cioè perché Dio permette così nella vita dell'uomo in questo mondo la croce del mio peccato è una croce preventiva quando tu soffri per il tuo peccato te lo sei fabbricato tu ma ne porti le conseguenze un'abitudine di peccato che tu non arrivi ad eliminare tu cerchi di scollarti dal tuo peccato o superbio o o ira o russuria o deviazione morale o invidia gerosia avarizia è il tuo peccato porti la croce il peccato l'hai fatto tu se è conseguenza del peccato e questa è una croce per te ma è una croce redentiva se tu soffri e se tu lotti per eliminare questo peccato già questa croce è redentiva per te procediamo così molto svelte la croce della propria ereditarietà tu sei nato da questo padre da questa madre tu porti nel tuo sangue questa tendenza non ci puoi fare niente hai ereditato è una croce che tu porti porta quella croce redentiva per te la croce dalla propria famiglia sei nato in una famiglia c'è un padre intrattabile una madre meno trattabile oppure vanitosa oppure un po' strano e tu devi vivere con la tua famiglia tuo fratello è scapestrato tua sorella ha fatto una malavita tu vivi in questa famiglia e la famiglia è una tua croce ma tu sei buono tuo marito è buono e i figli sono scapestrati è una croce pensate per esempio a Eli un sacerdote santo due figli scapestrati la sua croce pensate a Samuele Samuele è il grande profeta i figli Giacca da Fulca i figli di Samuele Giacca da Fulca da Samuele santo nascono due figli cattivi da Eli santo nascono i figli cattivi ma i figli sono croce per il padre e per la madre quante mamme buone quante mamme sante crocifisse per i figli legate ai figli gatti a doppio legame legate ai figli sono là gatti alla croce è la croce i tuoi figli sono la croce alla voce la voce è il papà alla volta la croce la mamma alla volta la croce sono i figli alla volta la croce sono i fratelli alla volta sono le sorelle in una comunità diceva San Giovanni Bergman la mia massima peritenza la mia massima croce è la comunità noi parliamo così bene della comunità è il luogo bello ma è il luogo dove si soffre è il luogo dove si patisce il fratello tradisce il fratello la sorella tradisce la sorella con lei che ti sta accanto ti tradisce come dice la scrittura chi spalla chi occhia e chi è una croce vivere in comunità è soffrire è morire ogni giorno ed è lì che ti fai santo in comunità questa è la croce dell'ambiente la croce delle persecuzioni sei perseguitato non hai fatto niente ma lì ti perseguitano ce l'hanno con te ma perché ce l'hanno con me non ho fatto niente ah no e buon Dio che permette le persecuzioni coloro che vogliono vivere viamente in Cristo e Gesù persecuzione ma pazienta saranno oggetto di persecuzione niente da fare persecuzione persecuzione all'ambiente a lingua persecuzione fuori le persone sospette dicerie calunni poi nella vita politica non ne parliamo nella vita civile non ne parliamo la lotta per la vita quante persone in carcere quante persone che soffrono quante persone che hanno avuto l'infarto perché sono state perseguitate persecuzione c'è la grande croce della malattia un bel giorno io che godevo buona salute ecco te cancro oh carcinoma oh cirrose oh ma fino a ieri stava bene ecco la malattia la malattia fai un esame di sangue non te l'aspettate e trovi il diabete a 300 come mai che ci succede qua la malattia la malattia che è una sofferenza grande ecco la croce vedete come la croce prende diverse forme ma è la croce di Cristo la croce dove tu sei santificato poi ci sono le croci fabbricate dagli altri abbiamo visto le croci fabbricate da noi e le croci fabbricate dagli altri la malattia è la croce fabbricata da Dio tante volte la persecuzione è una croce fabbricata da Dio sia che la fabbrichiamo noi sia che ce la fabbricano gli altri sia che c'è la fabbrica Dio la croce ci sarà sempre perché è vero quel detto del Vangelo chi vuole venire dietro a me prenda se la carichi sulle spalle ogni giorno ogni giorno quotidiano e mi segua dove? a Calvare per essere crocifisso sulla croce non per buttare di a Calvare e scapparsene no per essere crocifisso e morire sulla croce che è vita quella del cristiano e qui però la consolazione perché scatta la triplice legge la legge della conformità la legge dell'associazione la legge della redenzione a Calvare a Calvare a Calvare a Calvare a Calvare a Calvare